Madre, qual è stata la reazione dei bambini quando hanno visto i nuovi giocattoli? I bambini sono stati veramente felici perché qui mancava di tutto, non abbiamo nessun gioco, perciò è stata una gioia immensa e non so come ringraziare la banca e tutte le persone che sono interessate. Sono felicissimi i bambini, grazie tanto. Sindaco, dei bambini felici sono lo specchio poi di un paese felice. Certo, assolutamente sì. Io voglio approfittare per ringraziare il direttore della BCC e il presidente del Circolo perché sono sempre vicino a noi, vicino a queste iniziative di carattere sociale e devo dire particolarmente affezionati al nostro territorio e questo ci fa piacere. Direttore, com'è nata l'iniziativa? L'iniziativa è nata grazie al dottore Aldo Ruscinito il quale si è fatto portavoce di un'esigenza di questo asilo e della superiore che aveva bisogno di questi pochi giocattoli. Il nostro è stata una risposta immediata ma con questo non significa che abbiamo concluso qui la consegna dei giocattoli per i bambini. Si diceva prima, vedere dei bambini gioire per noi è qualcosa di importante. Il tutto comincia dai piccoli, educarli e farli crescere in un ambiente tranquillo e sereno credo che si crei lì base per avere poi una dirigenza del domani. Il nostro impegno è quello di stare vicino alla madre superiore, stare vicino all'amministrazione comunale di Sant'Arsenio stare vicino e rafforzare questo territorio che ha bisogno di essere rafforzato. Stare vicino al circolo sociale che tanto è diventato braccio destro della nostra banca quindi di conseguenza credo che possiamo affermare anche in questa sede che la banca è vicino alle esigenze del territorio. Presidente, quindi alla fine poi il risultato è stato raggiunto, bambini felici? Il risultato sicuramente è stato raggiunto parte non da molto lontano ma parte soprattutto dal nostro cuore così come ha detto gli amici che mi hanno preceduto, la stessa superiore. Parte dal nostro cuore perché i nostri sentimenti sono legati alle cose di Sant'Arsenio quando noi viviamo in questo paese. Io in questo istituto ho compiuto i primi passi del mio asilo e i primi passi delle mie scuole elementari. Immaginate un poco quanto io possa tenere questa istituzione scolastica che è praticamente data forse da 50-60 anni in questo territorio e che ha visto passare tanti allora giovani che poi sono diventati adulti. Oggi vediamo questi bambini. Dare un qualcosa a questi bambini veramente ci riempie il cuore di immensa felicità.